Il campionato italiano dei fessi superfetti Giudici, signor Razzaro Di Corretti, Paolo Ruggieri e Gaglio Mediani, superpigliore regolare sull'Ucidicella, signora Massimo Bartolettio, medico della manifestazione Giuseppe, dottora di Macchia Roma, comissario di Giulione, signor Lorenzo Casentini, Roma di Britta, signor Luigi Canelucle. E allora, mi amore che, invocato i nomi, invocato i nomi dei giudici degli amici, non faccio altro che dare a presentare i tuoi artisti di questo match. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti.